ciao da luci oggi finalmente vi faccio vedere dopo tutte le mie promesse la mia borsa bauletto allora per fare la nostra borsa bauletto ci serviranno due di questi bellissimi laterali che io ho acquistato da fungo label la mia amica erika una dip anche questa acquistata da fungo label guardate come è veramente molto bella fluida e soprattutto mi piace tantissimo l'attaccatura della zip dopo di che 200 grammi circa di un filato a vostro piacere io ho usato il macrame cord di merceria italia artisan quindi ho usato 200 grammi di marrone e un pochino di cammello quindi poi vi servirà della rete o della salpa per indurire il nostro pannello quello lo lascio decidere a voi io ve lo farò vedere con la salpa scusate ve lo farò vedere con la salpa e poi ovviamente la fodera io non fodererò anche l'interno dei laterali perché a me sinceramente sono bianchi piacciono così come sono quindi fodererò soltanto il pannello quindi direi che possiamo procedere con vedere come si aggancia ecco il nostro filato al nostro laterale quindi io sto lavorando con un macrame cord color cammello e un uncinetto numero 3 vado a fare il mio cappietto mobile in questo modo non lo tiro tanto e vado a infilare nel primo foro il mio uncinetto in questo modo prendo il cappietto prendo il cappietto non troppo altrimenti anche il nodo passerà attraverso il forellino ecco qui quindi non tiriamo troppo altrimenti ci tiriamo dietro anche il nodo ecco qui prendiamo il filo giusto quindi non la codina ma il filo attaccato al gomitolo e andiamo a fare la nostra prima facciamo una maglia bassissima per agganciarci dopo di che rientriamo e siccome è rigido il nostro disco mi dovrò muovere un pochino e andiamo a fare la seconda maglia bassa quindi la prima maglia bassa perché in realtà il primo punto era solo da aggancio passiamo al prossimo foro vedete in questo modo catturiamo il filo e facciamo una maglia bassa rientriamo ricatturiamo il filo facciamo una seconda maglia bassa rientriamo catturiamo il filo e facciamo una terza maglia bassa faremo tre maglie basse per ogni foro vi faccio rivedere quindi entro catturo il filo in questo modo e carico facendo la prima maglia bassa entro e faccio la seconda maglia bassa rientro e faccio la terza maglia bassa quindi faremo questo per tutto il nostro cerchio ci rivediamo sull'ultimo foro perché poi vi farò vedere come unire dove siamo partiti come vedete ho lavorato tutto il giro mi manca appunto l'ultimo foro lo facciamo insieme in questo modo allora vi consiglio l'impugnatura scusate a coltello perché è più facile proprio entrare e catturare il filo ed uscire quindi in questo modo perché con l'impugnatura a penna si fa un po' più fatica vedete rimane un po' più duro da lavorare quindi potete farlo in tutti e due modi ma è più comoda l'impugnatura a coltello quindi nel primo foro lavorato noi in pratica ci troviamo solo una maglia perché uno era da gancio dobbiamo andare a farne altre due quindi entriamo e facciamo le due maglie che rimangono quindi una e una due sembra un lavoro difficile ma vi assicuro che è solo un po' scomodo all'inizio allora ho perso il filo ecco qua vado a fare la mia seconda maglia alta di questo foro dopo di che con una maglia bassissima chiudo nella primissima maglia lavorata in questo modo ecco qua e abbiamo terminato vedete tutto il perimetro del nostro ehm laterale ora cosa andremo a fare? andremo a fare tutto un giro di ehm maglia bassa presa in costa quindi facciamo una catenella vediamo se sto prendendo il filo giusto no state attenti perché io di solito prendo la codina parto sempre prendendo la codina quindi controllate che il filo sia quello attaccato al gomitolo e che non sia la codina è quello attaccato al gomitolo quindi io faccio una catenella vediamo questo filo della codina che è in mezzo alle scatole poi taglieremo e bruceremo così ecco qua e dentro mi giro in questo modo così potete vedere bene eccomi qua entro in costa su ogni maglia e faccio una maglia bassa vedete entro nella costa e faccio la maglia bassa di nuovo costa maglia bassa vediamo se riesco a farvelo vedere bene entro nella costina dietro e faccio la maglia bassa questo lo vado a fare su ogni maglia sottostante proprio in questo modo quindi le vado a lavorare tutte adesso vi faccio l'impugnatura penna così magari si vede meglio quindi entro e qui catturo il filo maglia bassa entro filo maglia bassa diciamo che con i cordini e per le borse l'impugnatura coltello è più comoda però comunque si vede lo stesso quindi entro solo in metà quindi non prendo tutto ma prendo la costa retro vado a fare la mia maglia bassa questo ovviamente per tutto il nostro giro quindi arrivati all'ultima maglia non facciamo altro che entrare nella prima maglia lavorata prendendo la tutta ovviamente e facendo una maglia bassissima farò un nodino di sicurezza e con una forbice un paio di forbici taglierò il filo in questo modo dopodiché andrò a nasconderlo io in questo caso lo annodo direttamente lento però perché sennò tirate troppo la maglia con quello già lavorato faccio un po' di nodini dopodiché taglio a filo e andrò a bruciare con l'accendino in modo da fissare ecco il cordino io tengo sempre un accendino a portata per ecco fare questo lavoro questo è uno dei due cerchi io ovviamente ho voluto giocare voi sapete che a me la monotonia non piace molto e quindi l'altro cerchio l'avevo già fatto ma con il marrone quindi avrò un laterale di un colore e un laterale di un altro vedete io lo trovo veramente molto bello e anche l'idea proprio di scusatemi ho un po' di tosse anche l'idea di avere i due laterali diversi mi piaceva quindi ho deciso di farne uno chiaro e uno puro allora per fare il nostro pannello invece il multiplo è 4 più 2 ovviamente io ve lo farò vedere a campione vi faccio vedere l'allaborazione a campione è un semplicissimo punto nocciolina ma l'ho alternato innanzitutto ho fatto le noccioline più piccole e poi ho deciso di alternarlo con dei giri a maglia bassa e vedete che si creano queste sorte di righe che sono veramente molto io le trovo molto graziosi e alleggeriscono molto il punto nocciolina perché sinceramente io il punto nocciolina lo trovo un po' pesante quando è troppo troppo carico quindi adesso su campione vi faccio vedere come si lavora il punto nocciolina ovviamente voi deciderete quanto fare larga la vostra bauletto e di conseguenza quante maglie montare io in questo momento prendo immediatamente il centimetro e vi dico che la mia bauletto senza il perimetro ve lo sto calcolando senza il perimetro quindi è di 29 cm 29 cm senza il perimetro ed ho montato ovviamente un multiplo di 4 più 2 adesso vi faccio vedere a campione come si fa questo tipo di punto allora partiamo col nostro anellino facciamo il cappietto e io per partire in realtà non ho contato le catenelle semplicemente ho fatto una catenella e poi ho disfatto quello che non mi serviva quindi farò la stessa cosa in questo caso quindi faccio una catenella non ben definita a parte che questo è un campione quindi per voi è relativo quante ne vado a fare ma vi faccio vedere proprio solo la lavorazione quindi faccio il mio tot di catenelle anche perché vi rendete conto a quanti centimetri volete arrivare una volta che li avete lavorati perché si dilaterà sicuramente il lavoro quindi facciamo che io sono arrivata alla misura che voglio raggiungere della mia borsa e non faccio altro che entrare nella prima nella seconda catenella dall'uncinetto e faccio una maglia bassa nella successiva carico entro nella catenella ne esco chiudo per metà la maglia alta ricarico rientro pesco e una volta uscita chiudo per metà la terza maglia alta a questo punto mi dovrò trovare 4 occhielli sull'uncinetto carico il filo chiudo tutti e tre e nella prossima catenella vado a fare una maglia bassa nella seguente una maglia bassa e nella successiva una maglia bassa quindi faremo una nocciolina e tre maglie basse di nuovo nocciolina quindi carico il filo rientro nella successiva catenella e faccio la prima maglia alta chiusa a metà ricarico rientro faccio la seconda chiusa a metà ricarico rientro e faccio la terza chiusa a metà carico e chiudo tutti insieme non faccio nessunissima catenella per chiudere queste tre maglie alte ma entro nella successiva e faccio una maglia bassa in quella dopo una maglia bassa nella successiva una maglia bassa in questo modo ecco abbiamo fatto già tre noccioline quindi cosa facciamo di nuovo ripartiamo con le noccioline quindi di nuovo una chiusa a metà la seconda chiusa a metà la terza chiusa a metà chiudo tutto insieme e nella successiva catenella maglia bassa in quella dopo maglia bassa in quella dopo ancora maglia bassa in questo modo vi rendete conto quante noccioline state facendo e avete già la misura giusta che vi serve se io invece vi dico di fare le catenelle a seconda della della vostra mano potrebbe anche cambiare la misura della vostra borsa perché io potrei avere una mano più stretta a voi una mano più larga quindi di nuovo faccio un'altra nocciolina in questo modo quindi sempre a tre passaggi quando avete quattro fili sull'uncinetto caricate chiudete tutto e andate a chiudere con la maglia bassa nella prossima catenella quindi altre due maglie basse nelle catenelle successive e di nuovo ci si presenterà una ecco qua caricheremo e faremo maglia bassa chiusa a metà maglia bassa chiusa a metà opps è uscito tutto maglia bassa chiusa a metà una volta che abbiamo fatto ciò usciamo da tutto e di nuovo tre maglie basse nelle prossime tre maglie quindi una due tre eccoci qua a questo punto io decido che sono arrivata alla lunghezza queste catenelle poi le disferò non me ne farò nulla cosa faccio faccio una maglia una catenella avvolto il lavoro e vado a lavorare una maglia bassa nella prima maglia bassa sottostante una maglia bassa nella seguente una maglia bassa nella successiva che troveremo proprio qui proprio al limite della nocciolina mentre la prossima la vado a lavorare prendendo proprio la nocciolina quindi i due fili della nocciolina in questo modo e ci faccio una maglia bassa proprio sulla nocciolina quindi di nuovo inizio maglia bassa sulla maglia bassa maglia bassa sull'altra maglia bassa di nuovo maglia bassa al limite della nocciolina la vedete proprio qua al limite della nocciolina e una maglia bassa sulla nocciolina prendendo 1 2 3 fili quanti riuscite a prenderne senza rovinare la nocciolina ovviamente e facciamo questo per tutto il resto del giro quindi di nuovo maglia bassa maglia bassa maglia bassa e vedete che ci sono proprio io non so se riesco a farveli vedere bene si vede che qua si crea proprio due filini sopra la nocciolina noi entriamo proprio in quei due e facciamo la maglia bassa di nuovo maglia bassa maglia bassa maglia bassa e di nuovo in quei due fili vedete che io ne raccolgo due vado a fare vado a fare la mia maglia bassa sulla nocciolina di nuovo 1 2 3 e 1 sulla nocciolina avevamo iniziato però con una maglia bassa quindi dopo la nocciolina c'è una maglia bassa farete fatica a vederla infilatevi e fatela perché sennò vi viene tutto storto a questo punto facciamo il secondo giro di noccioline quindi il lavoro sarà alternato con giro di noccioline che rimane sul rovescio giro di maglia bassa giro di nocciolina alternato dopodiché giri di maglia bassa adesso vediamo subito insieme quindi io ho fatto la mia catenella volto il lavoro e devo rifare le noccioline perché sono sul retro del lavoro però cosa faccio per alternarle ho finito con una maglia bassa e una nocciolina ora cosa faccio la prima è una maglia bassa la seconda è una maglia bassa guardate bene perché è fatta sulla nocciolina non si vede bene ma c'è quindi vado a prendere la seconda maglia bassa che è sulla nocciolina vediamo se riesco a prenderla bene perché ho lavorato un po' stretto una terza maglia bassa dopodiché faccio la nocciolina quindi carico il filo per fare la maglia alta e la chiudo a metà una volta rientro nello stesso foro e chiudo a metà rientro la terza volta e chiudo a metà in questo modo chiudo tutto insieme e faccio la maglia bassa sulla maglia bassa successiva in questo modo quindi ne vado a fare altre due sulle due successive dopodiché vado a rifare un'altra nocciolina quindi carico il filo per fare la maglia alta entro nel prossimo punto maglia alta chiusa a metà per la prima volta rientro nello stesso punto chiudo a metà per la seconda volta rientro nello stesso punto chiudo a metà per la terza volta chiudo tutto insieme mi è scappato il filo quindi adesso mi tocca rifare l'ultima l'ultima maglia allora ecco qua la vado a recuperare quindi chiudo a metà quattro fili sull'uncinetto chiudo tutto insieme e maglia bassa sulla maglia bassa successiva in questo modo quindi vado a fare le tre maglie basse e vedete che vengono alternate le noccioline vengono proprio quella sotto ce l'abbiamo qui quella del giro seguente ce l'abbiamo nel mezzo quindi ora andiamo a fare di nuovo questo lavoro di nuovo a metà chiudo a metà sempre la nostra maglia alta e chiudo a metà con l'impugnatura coltello vi rimane più facile perché potete tenere i fili per non farveli scappare vedete in questo modo voi li tenete e non vi scappano chiudo tutto insieme di nuovo uno quindi una maglia bassa due maglie basse e tre maglie basse di nuovo carichiamo maglia alta entriamo nella maglia successiva facciamo di nuovo tre maglie alte chiuse a metà una due due e tre quindi usciamo anche dalla terza abbiamo quattro fili sull'uncinetto carichiamo chiudiamo tutti insieme e andiamo a fare le nostre tre maglie basse una due tre cosa succede? ci rimangono due maglie quindi nella penultima andiamo a fare la nocciolina una due e tre chiudiamo tutti insieme e andiamo a chiudere con l'ultima maglia bassa così abbiamo chiuso la nocciolina vedete che questo è il rovescio del lavoro questo è il dritto noi abbiamo tante noccioline alternate adesso si è vicino a sfoca quindi non vorrei ecco comunque abbiamo tante noccioline alternate ora vediamo come si prosegue quindi arrivati a questo punto noi dovremmo fare semplicemente tre giri di maglia bassa quindi saltando dal rovescio un giro di noccioline in questo modo quindi facciamo la catenella entriamo nella prima maglia e facciamo la maglia bassa prendiamo sempre le due catenelle della nocciolina e facciamo la maglia bassa quindi lavoriamo tutte tutte maglie basse per tre giri quindi anche sul rovescio non faremo la nocciolina in questo modo quindi contiamo sempre io conto sempre per sicurezza perché purtroppo una delle maglie basse rimane proprio al limite della nocciolina rimane proprio qua a fianco quasi sovrastata dalla nocciolina quindi contatele devono essere tre prima della nocciolina quindi andiamo a fare di nuovo sopra la nocciolina di nuovo le tre maglie basse che ci sono tra le noccioline di nuovo sulla nocciolina di nuovo le tre tra le noccioline ricordate sempre la terza rimane un po' nascosta prendetela bene quindi sulla nocciolina e di nuovo tre che sono le tre finali due e tre in questo modo catenella voltiamo il lavoro siamo sul rovescio se volessimo fare tutte noccioline dovremmo fare di nuovo le noccioline alternate noi no non facciamo le noccioline quindi rientriamo e facciamo un giro di maglia bassa sopra ogni maglia bassa che andiamo ad incontrare quindi facciamo questo per questo giro e per il prossimo quindi tra il giro di noccioline ci devono essere tre giri di maglia bassa ecco quello che avremo al termine dei nostri tre giri ora dobbiamo ricominciare i giri di nocciolina perché ritorniamo al rovescio quindi cosa facciamo dobbiamo replicare la prima riga di noccioline quindi facciamo la catenella voltiamo facciamo una maglia bassa e sulla seconda ricominciamo facendo la nocciolina quindi chiudiamo una volta a metà a metà per la seconda volta a metà per la terza volta chiudiamo tutti insieme e tre maglie basse sulle tre maglie basse sottostanti due e tre di nuovo proseguiamo così con le noccioline quindi di nuovo maglia alta chiusa a metà sulla stessa maglia alta chiusa a metà sulla stessa maglia alta chiusa a metà chiudiamo tutti insieme tre maglie basse nelle tre maglie basse successive e così ovviamente fino alla fine del giro quindi avendo ve l'ho già fatto vedere direi che proseguo da sola quindi finito anche questo giro la tenella voltiamoci ritroviamo sul dritto del lavoro vedete e dobbiamo fare sempre la stessa cosa perché il giro sopra le noccioline è un giro semplicissimo di maglia bassa quindi la prima è una maglia bassa la seconda è una maglia bassa la terza è una maglia bassa la quarta è una maglia bassa fatta sulla nocciolina e di nuovo maglia bassa su maglia bassa maglia bassa su maglia bassa maglia bassa su maglia bassa maglia bassa fatta sulla nocciolina e quindi proseguiamo ovviamente così per tutto il giro quindi finito anche questo giro di maglia bassa dobbiamo replicare il secondo giro di nocciolina per l'alternanza quindi la tenella voltiamo facciamo tre maglie basse due e tre e la quarta maglia è la maglia alta che compone la nocciolina quindi maglia alta chiuso a metà 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 chiudiamo tutti insieme tre maglie basse una due tre come potete vedere vi viene la stessa alternanza che abbiamo sotto quindi dovrete sempre procedere così dopo questo giro farete tre giri di maglia bassa semplicissima e poi ricomincerete con il primo giro di nocciolina giro di maglia bassa giro di nocciolina e tre giri di maglia bassa quindi sarà sempre quella l'alternanza ovviamente le catenelle che vi sono avanzate poi le scucirete io non ho contato le catenelle d'inizio perché sono partite direttamente dal disegno quindi ora vado a finire questa riga e vi faccio vedere come fare il perimetro allora se vorrete seguire il mio stesso disegno io semplicemente ho fatto poi dei giri vedete sopra e sotto di maglia bassa per staccare un po' la nocciolina e per avere poi dove attaccare la cerniera quindi la parte alta della porta un po' è un po' più semplice sono semplicissimi giri di maglia bassa che voi deciderete diciamo di quanto fare alti quindi non c'è una regola ora io vi faccio vedere come si lavora il perimetro che è la cosa veramente più semplice vi dico solo che io per sapere quanti giri fare ho semplicemente calcolato la circonferenza dei miei centri quindi dei miei laterali e ho fatto in modo vedete se io adesso appoggio questo in questo modo ve lo faccio vedere così vedete che riesco ad avvolgere quasi interamente il mio laterale perché quasi interamente perché devo lasciare lo spazio della cerniera quindi se volete potete contare i giri io semplicemente mi sono appoggiata al laterale potete decidere voi come fare quindi lasciate comunque almeno un centimetro per la cerniera altrimenti non sapremo dove attaccarla quindi detto questo vi faccio vedere il perimetro quindi fatti i nostri giri di maglia bassa nel numero che decidiamo di realizzare non facciamo altro che dal diritto quindi facciamo la catenella andiamo a lavorare tutte le maglie basse in questo caso io sto lavorando su anche le noccioline ma voi vi ritroverete le maglie basse quindi lavoriamo semplicemente le maglie basse ripeto io adesso le noccioline perché per semplificare la spiegazione non ho fatto tutto come da borsa originale che volendo potreste tranquillamente fare anche voi come sto facendo io in questo momento non siete obbligati a poi a fare dei giri con cambio colore o con giri di maglia bassa potete fare anche tutto a noccioline quello è a vostra discrezione io vi faccio solo vedere come si fa in modo che possiate poi decidere voi di variare la vostra borsa nel migliore dei modi o comunque come più vi piace quindi arrivati all'ultima maglia questa qui la lavoriamo facciamo due catenelle rientriamo nella stessa maglia voltando il lavoro quindi trovandoci sul laterale del lavoro andiamo a lavorare tutte le maglie lateralmente in questo modo dove c'è un foro c'è una maglia ecco qui in questo modo qui c'è una maglia sappiate che è la prima prima della nocciolina voi non avrete questo problema perché comunque avrete poi delle maglie basse due catenelle rientrate nella stessa maglia e girate di nuovo il lavoro in modo da lavorare ecco qua tutte le vostre maglie basse anche in questo caso se dovete partire con le maglie basse sulla nocciolina prendete proprio la nocciolina quindi non saltate mai la nocciolina perché se no vi mancano dei punti quindi andiamo semplicemente a lavorare come fatto finora questo lo faremo per due giri perché dobbiamo avere lo spazio sia per cucire i laterali al corpo borsa sia per cucire la fodera quindi ci servono almeno due giri di lavorazione quindi ora io vado avanti così facendo sempre due maglie nell'angolo divise dalla qua la piego perché non l'ho tagliata dalla catenella quindi questa è la prima vedete potete anche tenere la catenella nella lavorazione poi non si vedrà più quindi faccio l'ultima faccio due catenelle rientro nella stessa in questo modo e mi ritrovo a lavorare lateralmente quindi faccio così per tutti e quattro gli angoli ci rincontriamo qui dove siamo partiti per fare il perimetro eccoci qua siamo arrivati all'angolo d'inizio del perimetro che cosa facciamo? allora siamo entrati nell'ultima maglia facciamo due catenelle in questo modo con una maglia bassissima entriamo nella prima lavorata in questo modo ci alziamo con una catenella e andiamo a fare la stessa cosa quindi andiamo a rifare il giro di maglie basse in questo modo ve lo faccio vedere è il secondo ed ultimo giro fatto questo avete finito praticamente il corpo borsa quindi ve lo faccio vedere tutto molto bene perché è la parte che tra virgolette è più importante perché dobbiamo avere lo spazio sia per cucire la fodera sia per cucire i laterali sia per cucire la cerniera quindi dobbiamo avere maggior spazio possibile quindi eccoci qua stiamo arrivando all'angolo dopodiché saranno tutti uguali quindi vi faccio vedere quest'angolo e saranno poi tutti uguali quindi entro nell'ultima qua ci sono le due catenelle che abbiamo fatto entriamo facciamo una maglia bassa una sola catenella rientriamo in quel foro facciamo la maglia bassa e voltiamo il lavoro vedete? perché ne ho fatte due al giro prima? perché si faceva fatica poi a rientrare nella catenella singola facendone due facendo due maglie quindi stessa cosa da questo lato vedete stiamo camminando da questo lato arriviamo alle due catenelle quindi lavoriamo la maglia prima delle due catenelle stiamo arrivati alle due catenelle entriamo con la prima maglia facciamo una catenella sola rientriamo facciamo una maglia bassa e proseguiamo di nuovo sull'altro lato e quindi questo è quello che verrà facciamo tutto fino alla fine quando arriviamo qui facciamo quindi quando arriviamo all'ultimo delle due catenelle lavoriamo maglia bassa catenella maglia bassa e chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia lavorata quindi chiudiamo tagliamo il filo e abbiamo finito il nostro pannello per l'appunto siamo arrivati all'ultima vedete entriamo nello spazio delle due catenelle faccio maglia bassa una catenella rientro maglia bassa e maglia bassissima nella prima lavorata in questo modo allora mi è scappata quindi la rifacciamo ecco qui entro nella primissima maglia bassa e mi scappa per la seconda volta ma l'ho recuperata ecco qui io faccio sempre no mi è scappata ecco qua catenella di sicurezza io sempre la faccio taglio e poi andrò a nascondere i fili il nostro pannello vedete perfettamente rettangolare è finito ovviamente questa è la prova adesso andiamo a lavorare sull'originale perché vi devo far vedere come indurirlo prima di cucirlo ai laterali ovviamente prima di indurire dobbiamo andare ad attaccare i manici perché una volta che avremo indurito non abbiamo più modo di cucire niente quindi che cosa facciamo allora faccio un nodino per bloccare il filo infilo infilo nel mio tira fettuccia in questo modo il mio filo che lavorerò doppio così tiene un po' meglio e faremo anche meno pastate ecco qua facciamolo qua il nodino dall'interno quindi dall'interno scegliamo dove ovviamente a seconda dei nostri manici dove attaccare io mi attacco proprio qui sotto una delle noccioline quindi conto le noccioline per avere la stessa distanza oppure fatelo col centimetro comunque io qui adesso andrò a cucirmi il mio manico perché una volta che poi induriremo non avremo più la possibilità di cucire nulla quindi se dovete cucire etichette come farò io ovviamente e quant'altro io vi consiglio questo lavoro di farlo subito perché poi non potrete più fare nulla quindi ora io vado a cucirmi i miei manici in questo modo facciamo in modo che siano esteticamente un po' carini quindi facciamo in modo che siano tutti uno vicino all'altro messi in ordine per non avere ecco una cosa fatta male ecco qua passateci fino a quando non vi sembra che sia assicurato bene poi ovviamente questo si muove non vi preoccupate ma passatelo fino a quando non vi sembra che sia assicurato bene al pannello quindi una volta fatto ciò bloccheremo da dietro il il nostro filo adesso qua è il risultato un po' incasinato perché c'era il nodo ecco qua vediamo bene il nodo poi lo andremo a bloccare e quindi faremo la stessa cosa da questo lato e per i manici dall'altra parte questo è ciò che avremo al termine della cucitura dei manici vedete è una cosa molto che se volete potete anche lasciare così perché è veramente molto carina però noi adesso andremo vedete a indurire non vi preoccupate dei fili che ci sono all'interno perché tanto verranno nascosti dalla salpa io adesso andrò a prendere la misura della salpa e la salpa verrà attaccata solo sulla parte marrone quindi ora vi faccio vedere anche come si attacca come si taglia come si attacca come si buca la salpa invece se voi avete la rete potete tranquillamente cucire la rete eccoci qua come vedete nello specifico questa è la salpa è questo materiale molto molto bello vedete che però la salpa non ha buchi e quindi io ora vado a prendere questo bellissimo attrezzino per fare i buchi alla mia salpa quindi prenderò un martello deciderò quanti buchi fare quanta distanza tra un buco e l'altro e andrò a bucare tutto il perimetro ecco che è caduto della mia salpa per poi cucirlo alla mia borsa così che rimanga bella rigida ora vado a bucarlo da sola perché è veramente faccio veramente rumore col martello e poi vi faccio vedere il risultato ovviamente e poi lo cuciremo insieme una volta forata tutta la mia salpa col mio aggeggino cosa farò cucirò tutto col filo di nylon in questo modo allora facendo in modo però la teniamo fermo il primo pezzo di entrare e uscire vicinissimi perché sul filato scuro il filo di nylon potrebbe vedersi allora al primo faccio anche un bel nodino così il filo di nylon è bloccato e non andiamo a ecco qua perdercelo dopodiché passiamo sul foro successivo entriamo in questo modo guardate perché il filo di nylon è maneggevole ma fino a un certo punto entriamo vicinissimi a dove siamo usciti in modo che non si veda assolutamente perché ricordo che il filo di nylon sullo scuro si vede quindi vado semplicemente a cucire buco per buco tutto il mio la mia salpa che sarà il mio indurente ecco qui al mio alla mia borsa quindi prima cucirò tutta la salpa e poi insieme cuciremo la soffa vado avanti da sola perché il procedimento è sempre lo stesso faccio quindi tutto il giro qui ho fatto buchi più distanti perché non era necessario a me interessava che rimanesse un po' più bloccato dove piega quindi ho fatto più buchi laterali e meno lì qua ma non importa voi potrete farne anche quanti ne volete io ho scelto una mia linea guida diciamo ecco quindi io proseguo con la cucitura e ci vediamo ovviamente quando la borsa sarà indurita come potrete notare dopo aver attaccato la salpa ho semplicemente fatto un pannello rettangolare di soffa e l'ho semplicemente prima puntato con gli spilli e poi cucito a questo punto io prima di mettere la cerniera vorrei attaccare i miei cerchi i miei laterali e lo faremo in questo modo quindi ho preso il filo e insomma l'ho fatto un po' lunghino adesso lo accorcio un pochetto vediamo ecco qua la forza ce lo accorcio un pochino e ecco qua è un po' lungo e vado semplicemente a cucire in questo modo allora prendo una parte qualsiasi e dentro sia in prendo tutta la costa da questo lato e tutta la costa da questo scusatemi si è sbeccato lo smalto mentre cucivo e per ora me lo terrò così allora questo lo lascio un ottimo morbido perché lo fermerò poi quindi passo nel punto successivo e vado a fare la stessa cosa però mi raccomando entrate prima a destra e poi a sinistra in questo modo non si vedranno i punti quindi andremo piano piano cucendo tutto quindi prendiamo una costina di qua una costina di là intera e andiamo a cucire di nuovo una costina da questo lato una costina dall'altro lato e andiamo a cucire quindi faremo questo ovviamente fino a quando non sarà attaccato l'intero laterale questo è ciò che avremo al termine della cucitura dei laterali vedete abbiamo già la nostra baoletto molto in forma vedete la faccio girare tutta così ovviamente un lato ce l'abbiamo chiaro un lato ce l'abbiamo chiaro e scuro ora manca solo la cerniera e per la cerniera vi faccio vedere immediatamente come farla perché vedete abbiamo lasciato uno spazio molto largo vedete perché dobbiamo comunque fare una spalletta alla cerniera la cerniera è questa verrà posizionata così noi adesso andremo a creare delle spallette per la nostra cerniera in modo da poi poterla agganciare agevolmente alla borsa per fare la spalletta alla mia cerniera non faccio altro che usare le stesse maglie quindi la stessa larghezza della mia borsa io ho montato 48 maglie perché ricordate il multiplo è di 4 quindi metto da parte la mia cerniera trovo il capo del mio filato che è qui ormai tutto aggrovigliato e vado a montare semplicemente 48 catenelle in realtà io mi fermo a 46 perché andrà bordata anche la spalletta quindi da 46 facciamo la 47esima maglia e iniziamo a fare dei giri di maglia bassa quanti ne dovremmo fare ecco il numero delle maglie da fare il numero dei giri da fare è quello che rimane d'apertura sulla borsa vi faccio vedere subito vedete che la borsa ha questa parte che rimane aperta voi contate e ovviamente io ne ho 10 quindi che cosa farò farò due giri due giri di maglia bassa più il perimetro quindi farò semplicemente delle spallettine piccolissime perché perché comunque dobbiamo andare a coprire questa zona non dobbiamo e poi dobbiamo avere anche comunque lo spazio per la cerniera quindi io calcolando in centimetri ho fatto un breve calcolo e mi servono due giri di maglia bassa più perimetro quindi diventeranno quattro e poi cucirò la cerniera e cucirò la cerniera alla borsa adesso procediamo insieme io andrò a fare i due giri più il perimetro e poi dopo cuciremo insieme la cerniera alle spallette al termine dei miei due giri ovviamente catenella volto il lavoro andrò a lavorare tutta una riga di maglia bassa qui nell'angolo farò una catenella e di nuovo una maglia bassa per voltare il lavoro dopodiché siccome sono solo due righe una maglia bassa da questo lato una maglia bassa su quest'angolo catenella sempre maglia bassa sull'angolo torno indietro e faccio la stessa cosa quindi il perimetro si fa sempre nello stesso modo faccio due di queste strisce perché saranno quelle ovviamente che ci faranno da spallette alla cerniera arrivata all'ultimo punto infatti vado a fare la catenella rientro nello stesso punto e mi ritrovo girata lateralmente quindi faccio una maglia bassa e entro nel prossimo angolo quindi faccio la maglia bassa la catenella e di nuovo entro e faccio la maglia bassa ora non faccio altro che fare tutte maglie basse anche su questo lato in questo caso non lavorerò come se facessi il punto canestro ma entro proprio nella catenella in questo modo perché così ho più spessore anche perché io di solito quando inizio prendo solo una catena una delle due barrette quindi non mi rimane molto forato vedete che rimane abbastanza compatto perché voglio che abbia un po' più spessore poi adesso sto tirando e si vede un po' di più però poi vi assicuro che una volta cucito non si vedrà nulla quindi entro proprio nella maglia non come se stessi facendo il canestro ma proprio in ogni maglia in questo modo quando arriverò all'angolo farò la stessa cosa catenella e poi ovviamente girerò fino ad arrivare qui dove ho iniziato dove farò la catenella e chiuderò il mio lavoro e avrò la spalletta finita eccoci arrivati qua abbiamo fatto le spallette vedete ora non dobbiamo fare altro che cucire le spallette io cuciro con filo di nylon le spallette alla cerniera rimanendo comunque un pelino scostata dalla cerniera quindi vedete terrò proprio questa è bella brillantina e starò un po' scostata proprio per non affogare proprio la cerniera nella lavorazione quindi andiamo a cucire la nostra cerniera e poi cuciremo le spallette con tutta la cerniera al resto della borsa una volta cucita la nostra cerniera alla spalletta vedete che è perfettamente cucita non facciamo altro che la stessa cosa che abbiamo fatto per cucire i laterali quindi cuciremo la nostra cerniera in questo modo attaccata maglia contro maglia aspettate che si muove tutto qua vedete maglia contro maglia prendendo entrambe le coste e così finiremo la nostra borsa io procedo da sola perché in questo momento l'inquadratura è piuttosto bruttina si fa fatica ad inquadrare sia la borsa che la cerniera che mai che cuccio ma alla fine ovviamente la borsa sarà finita ed ecco qua la nostra bauletto terminata io ho già anche affrancato la mia bellissima targhetta lululab fatta da fungo label come i laterali della mia borsa mentre il resto è la cerniera scusate mentre il resto dei materiali ovviamente è di Italia Artisan io spero di essere stata chiara è un po' articolata questa borsa ma vi assicuro che è facilissima da realizzare come tutte le borse che vi sto presentando ha sì molti pezzi da cucire insieme ma veramente di facile realizzazione ovviamente la vedrete meglio nella presentazione in descrizione vi lascerò misure link e tutto quanto io spero veramente vi sia piaciuto anche questo tutorial vi ringrazio per avermi seguito e vi rinnovo tanti baci ciao ciao da Luci a presto a presto Grazie a tutti.